Approvata la finanziaria regionale, tempo di approfondire i temi della manovra adottata dal Presidente nell'Omusumeci. I fari sono stati puntati tra gli altri sulle stabilizzazioni e sulla prosecuzione dei rapporti di lavoro dei contrattisti e degli ASU. Come è noto si procederà a stadi, una parte potrà concludere il precariato, gli altri dovranno aspettare. Alla fine della precedente legislatura si erano nelle condizioni, secondo quanto si era preso dagli incontri all'assessorato regionale del lavoro, che potesse concludersi la precarietà durata ormai troppi anni. E adesso? Sicuramente il Governo regionale ha fatto un grossissimo lavoro perché molto probabilmente si concluderanno quelle che sono le procedure per la stabilizzazione dei contrattisti. Per quanto riguarda gli ASU ancora c'è tanto da lavorare, anche se la legge vigente, la legge 8 del 2017, l'articolo 11, è abbastanza articolata, va invece applicata. Sembrava dalla fine della legislatura del Governo Crocetta che i presupposti per gli ASU fossero diversi rispetto a quello che sta dicendo in questo momento? No, la legge vigente prevede un articolato cronoprogramma. Ora è il Dipartimento Lavoro che deve procedere a porre in essere quello che il legislatore ha disciplinato. Grazie. 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 Grazie a tutti.